Scomoda la canzone di The Colors, questa non è Ibiza, il consigliere comunale del PD Stefano Palumbo, dopo la nota del Lama, l'azienda che si occupa del trasporto pubblico locale, che ha fatto presente all'utenza che a causa delle rigide temperature di questi giorni si potrebbero verificare dei disservizi su alcune corse. In una città come l'Aquila in realtà, dove le temperature sotto zero ci vanno spesso in inverno, la cosa ha fatto ironizzare parecchio tanti cittadini, non solo esponenti politici. Palumbo promette che chiede racconto di questa assurda vicenda, una spiegazione che secondo lui copre altri problemi. L'azienda in pratica in una nota fa sapere tramite l'amministratore Augusto Equizzi che in questi giorni si sono verificati tanti fermi di mezzi a causa del freddo e quindi si scusa in anticipo qualora dovessero esserci ritardio di servizi, invitando le persone a consultare il sito per capire dove potrebbero verificarsi dei problemi. L'azienda ha comunicato pure che per i cittadini coinvolti ci sarà un rimborso, ma queste poche righe hanno scatenato indignazione e ironia. Ma è incredibile infatti un'affermazione simile per giustificare un disservizio che invece è strutturale e dipende invece dal vetustà del parco mezzi e dal fatto che ci sono decine di autobus elettrici parcheggiati purtroppo nel deposito senza essere utilizzati per incapacità e impossibilità di ricaricarli. E in una stagione come questa di questa invernale, tra le più calde mai registrate all'Aquila, giustificarsi con le temperature rigide veramente fa sorridere e merita una risposta di questo tipo. Purtroppo la situazione come dicevo è tragica, è veramente ormai un problema che si ripete quotidianamente in qualsiasi momento dell'anno a fronte appunto di investimenti che sono stati sperperati e con una situazione ormai veramente precaria di disagio e di difficoltà per tutti gli utenti che vedono quotidianamente saltare le corse e rimanere a piedi con disagi evidenti sia per impegni personali che familiari.